Si prostituivano qui, una villetta situata lungo la strada nazionale adriatica, di fronte alla chiesa di Ponte Metaura a Fano. All'interno di questo immobile, gli agenti del commissariato, coordinati da Stefano Seretti, hanno scoperto una vera e propria casa di tolleranza, con all'interno 5 donne di nazionalità cinese e tutta l'attrezzatura del caso, come salviette, luci soffuse e suddivisione degli ambienti. Inoltre, lungo il corridoio che conduce alle varie stanze da letto, avevano posizionato dei cestini dove venivano gettati profilattici di marca cinese, mentre nel comodino di ogni camera c'era un bigliettino con alcune frasi, tradotte dal cinese all'italiano per facilitare l'approccio. Nel giardino, invece, fino alla scorsa estate c'era una girandola come indicazione per i clienti che, per non farsi riconoscere, parcheggiavano l'auto di fianco al bar e poi si dirigevano a piedi contattando le prostitute al telefono, queste si affacciavano dalla finestra e se riconoscevano l'avventore aprivano la porta. Per la maggior parte dei casi i clienti scoperti hanno più di 50 anni e sono nati fuori regione ma residenti in zona. Alcuni di loro sono sposati e tutti pagavano una prestazione che andava dai 30 ai 50 euro. D'altra parte, invece, secondo alcune testimonianze, pare che ci sia chi abbia rifiutato l'occasione, non per un fatto di moralità, ma per la scarsa igiene dei locali. L'operazione delle forze dell'ordine è iniziata con diversi appostamenti dopo aver ricevuto segnalazioni su un vie e vai di persone e a tutte le ore del giorno. A quel punto i poliziotti si sono finti clienti e sono entrati nella villa, dove hanno sgominato il giro di prostituzione. Tre delle cinque cinesi, tutte di età compresa fra i 40 e i 47 anni, sono stati espulse perché erano entrati irregolarmente nel territorio nazionale. Le altre due donne, invece, avevano regolari permessi di soggiorno, provenivano da Rimini e Macerata e sono già conosciute per gli stessi reati. Dagli accertamenti è emerso che erano loro gli organizzatrici dell'attività illecita. Così sono state denunciate all'autorità giudiziaria per aver ingaggiato persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento sessuale, approfittando della loro posizione di clandestinità. Inoltre, il proprietario della villetta, un fanese di 69 anni, è stato segnalato all'ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate per aver concesso in uso l'immobile senza un contratto regolare e per aver recepito, da almeno un anno e senza dichiararlo, un affitto di 1000 euro al mese. L'edificio è stato chiuso. L'edificio è stato chiuso.